L'associazione studentesca Iride, in stretta collaborazione con il gruppo di lavoro Scuola e Università, sta svolgendo un'indagine sulle problematiche degli studenti e sull'efficienza della didattica e delle istituzioni universitarie all'interno dell'Ateneo Catanese, somministrando agli studenti un questionario anonimo. L'obiettivo è quello di comprendere meglio se esistono e quali sono le problematiche che lo studente affronta all'interno del suo percorso di studi universitario e quindi poter agire per migliorarne in futuro la qualità lavorativa. Il progetto è quello di un questionario rivolto agli studenti, scritto per gli studenti, fatto ovviamente da studenti, non solo somministrato ma anche ideato dagli studenti. È un questionario con domande non accondiscendenti ma con domande riverenti, volti non solo a vedere quelle che sono le problematiche degli studenti, le tematiche che ogni giorno andiamo a affrontare in quanto studenti, ma soprattutto quelli sono i punti critici dell'Ateneo che in qualche maniera tra modifiche universitarie del MIUR, tra modifiche legate al Rettore, quindi all'Ateneo stesso, ha avuto dei disservizi che conosciamo bene. L'associazione Iride che si sta preoccupando di somministrare, di svolgere questo questionario, poi si preoccuperà anche di rielaborare i dati ovviamente perché ci sarà una relazione, ci ha aperto le porte, ci ha dato la possibilità non solo di lavorare da dicembre in pratica che lavoriamo su questo questionario, ma ci ha dato anche la possibilità di fare le richieste, ci ha dato la possibilità di avere i banchetti, quindi in maniera autorizzata all'interno dei dipartimenti ed evitare una banale consegna o smissamento di questionari magari alle porte del dipartimento stesso. Ci sta coprendo anche come risorse, ha trovato tutti i ragazzi disponibili, volontari, che gratuitamente stanno spendendo il loro tempo per fare questo e come vedrete non è tanto volta ad avere un gran numero di questionari, ma un numero qualitativamente superiore e soddisfacente di questionari ragionati, cioè avere l'impressione e la percezione che questi studenti hanno della loro vita in Ateneo. Il questionario serve a individuare i punti da andare a risolvere, su cui puoi creare dei gruppi di studio per risolvere a livello di Ateneo, a livello comunale, a livello locale, a livello regionale le problematiche che poi gli studenti denunceranno tramite il questionario. Abbiamo programmato il Dipartimento di Scienze Umanistiche, dove siamo in questo momento i Benedettini, contemporaneamente ci sarà un gruppo, c'è un gruppo a Scienze della Formazione, il Dipartimento qui sempre impensate. La prossima settimana, lunedì e martedì, saremo al Dipartimento di Scienze Biologiche e Geologiche Naturali in Viandrone. I giorni successivi poi andremo a Economia, al Dipartimento di Economia, e successivamente a Scienze Politiche. I ragazzi si stanno mostrando molto disponibili, molto entusiasti di questa iniziativa, perché le domande non sono fatte casualmente, le solite domande di questionari comuni, ma sono proprio indirizzate ai loro bisogni, alle loro necessità, quindi molto disponibili, siamo molto contenti di questo risultato.